Oggi venerdì 29 marzo 2019 siamo su Torrente Nero, Leno, siamo in primavera stiamo vedendo una bellissima e grossa marmorata che sta bollando cioè aspetta il passaggio dei mosalini sul pelo dell'acqua poi viene sulla fondale e locatura eccola, ha bollato anche adesso Torrente Leno nel tratto attraversamento delle vicissità di Lovereto ed eccola, ha catturato un altro moserino che è passato sul pelo dell'acqua una delle tante cascate che ci sono ed ecco ancora la marmorata nel linguaggio della pesca con la canna da mosca, mosca suta o mosca tirata, quando si comporta così viene chiamato bollare cioè catturare i moserini sul pelo dell'acqua ed eccola ancora, ha catturato due moserini invece quando li cattura sul fondale che passano con la corrente si chiamano infare grazie a tutti grazie a tutti